Il dramma di Jasmine Carrisi, sta tabulizzata, delisa, offesa. Jasmine Carrisi prova a ripercorrere i momenti più duri della sua vita, la scuola non è stata una passeggiata. Jasmine Carrisi, 21 anni, figlia di Albano e Loredana Lecciso, è pronta al grande salto. La cantante sta girando una serie tv i Carrisi, che la vede protagonista. Per l'occasione. Chi le dedica una intervista, dopo gli studi, me ne vado in America andrà a costruire ancora meglio il suo percorso da professionista. Si parla del momento più difficile, bulizzata a scuola, sono stata derisa e offesa, come tanti. Jasmine Carrisi prova a ripercorrere i momenti più duri della sua vita, tra i quali la sottovalutazione. Dopo un percorso, ha capito che le persone ti trattano come tu dici loro di trattarti e ti attribuiscono il valore che tu dici loro di avere. Niente di più vero e la spiega così al settimanale di Alfonso Signorini. È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anche io sono stata bullizzata. Derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C'è stato un episodio. Alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola alunni. Insegnanti, collaboratori scolastici per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto, la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire. Proprio in relazione alla fama mediatica di Albano e Loredana Lecciso, c'è stato un momento nella vita di Jasmine in cui ha detestato i suoi genitori. In qualche modo sì. Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all'idea che tutti avessero un'immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole. Della mia famiglia. Temevo di ferirlo e sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto. I rapporti con i fratelli. Sani, come quelli delle altre famiglie, poi chiaramente c'è chi sento di più, chi meno. Adesso, Jasmine Carisi è single. La vita privata rivela quella di una ragazza molto tranquilla. Era uscita la notizia di un flirt con Giovanni Antonacci, figlio del cantautore Biagio Antonacci, una sana frequentazione diventata. Poi, una piacevole amicizia. Succede. E fine della storia. Succede che la musica a pus cu rap-ul si Pentru el e de bun simt sa ridic stacheta. Liric vorbinta, ajunga la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta-i telul, il executi ca pe Maria Antoaneta. D'aia de cand ma stiu textul-i plin de dude. Dumele tante printre talea culte. Incerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rub capete, lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodata, nu le opresc ca nu s-a atât.